Grazie a tutti. Grazie, grazie. Grazie a tutti. Adesso vi faccio pochissima, parlo poco perché tanto so che non siete qui per me oggi. È l'opera comic, non è vero, lo dico perché tutti dicevano no, non è vero, invece non l'ha detto nessuno. Anzi, canti qualcosa ciò che c'è, dai facciamo. Allora, questa è l'opera comic, scritta la prima opera veramente comica che è differente da Buffo, da Buffo, opera Buffa, che ha scritto il nostro Donizetti, eseguita per la prima volta l'opera comic a Parigi e che quindi segna una svolta importante nella drammaturgia, anche nella modalità. Ed è veramente, adesso faccio una banalissima tautologia, un'opera comica, cioè fatta per ridere, ci sono un po' di doppi sensi, ci sono un po' di modalità. E' anche scritta in maniera molto particolare rispetto al Donizetti che conoscevamo fino a questo periodo. Ci sono sempre le arie, ma sono sempre stimoli di un certo tipo. Si diverte, secondo me, anche Donizetti, quella famosissima arie che adesso sentiremo fra poco cantata dai nostri bravi interpreti della Scuola dell'Opera, in cui lui sfida le vette estreme del tenore, gli fa fare la famosa arie con tutti i do di petto, mesami, qui la cantò la prima volta che fu fatta questa edizione, niente proprio di meno che è un grandissimo tenore che ha fatto poi Werther da noi altre volte, perché evidentemente c'è anche nella scrittura di Donizetti un aspetto divertente e divertito che era il senso di queste produzioni evidentemente di un certo tipo. E voi come vi siete trovati in questa approfondita analisi critica che avete fatto di questo testo? Guardi, il sovrintendente, lo sovrintendente. Io intanto non ho capito perché sono qua, manco mi facevano entrare, quindi... Lo scopriamo insieme, perché perché essendo stato fatto dal Ministero del Governo un'indagine su come mai si è abbassato così tanto il livello culturale medio nazionale, perché è un dato questo fatto, hanno gli istituti di ricerca trovato, scoperto, che questo dipende molto dai comici televisivi, tra cui Vergasson, che hanno abbassato il livello medio nazionale. E allora il Governo stesso ha lanciato una circolare nella quale si obbligano tutti i comici televisivi una volta all'anno a confrontarsi con un classico dell'opera italiana. O una roba letteraria e così via. E oggi tocca a Vergasson. Scusate, è un trappolone. Se non si comporta bene, non segue questa breve presentazione che dobbiamo fare, gli vengono... c'è qui tra il pubblico uno del Ministero che prende appunti... Uno culturale? Baricco nascosto da qualche parte, travestito. E se non segue in maniera ragionevole la trama che andiamo a esporre, se non ascolta con attenzione le aree che vengono cantate, gli vengono cancellati tutti i contratti in teatro. Non ce n'ho più. Già non ce n'ho più. È un tentativo di obbligare il Vergasson. Io l'ho tirato qua dicendogli che andavamo a fare un'altra cosa, un'osteria di Bologna. Andiamo a fare una serata in un posto di cabaret normale e io facevo le mie serate. No, invece no, devi seguire qua. C'erano le mie belle battute da dire, quelle battute che si dicono come quando cantavano all'opera, quelli che stavano nel bar, c'era l'umorismo, era quello popolare. Prendevano una notizia tipo, non so, a Berlusconi è stata impiantata una valvola ortica di maiale per escludere il rigetto. Ci sono cose buffe, vecchie poi anche, scontate. E' il popolo che... Capezzone colpito al volto da un pugno. Comunque dalle prime lastre risulta una lesione all'osso sacro. Ma sono cose che neanche uno si ricorda più cosiddette. Vedete, per rimanere in tema, l'opera buffa, l'opera comica... Lui 84 anni e lei 82 spacciavano e consumavano cocaina. Un erario esempio di pensionati che riescono a tirare fino a fine mese. Ecco, io sono venuto per fare a Bologna questa cosa qua, per fare una serata. Questo per darvi l'orribile idea di quella che è la vita fuori da questi teatri, di quello che è il pubblico che non viene a ascoltare l'opera, che non va a teatro, di cui Vergassone è un ottimo esempio. E quindi la nostra missione oggi pomeriggio, per quanto impossibile, sarà di costringerlo a ascoltare queste aree e a seguire la teatro. Posso telefonare che c'è una bomba, come facevamo a scuola. Censis, un italiano su tre vive con i genitori, gli altri due sono sua madre e suo padre. Ora, secondo me, se facevo un'oretta io, facciamo prima, ce la spangavamo, eravamo contenti tutti come Pasqua e non è che dovevamo fare, sottoporci a questa struttura che... Al di là del coso, questa reale reazione, questo contesto... Ma sentiamo dei dischi? Ci mette in relazione a ciò che sia poi l'opera comica, cioè se la relazione con l'umoristico, col comico, è sempre qualcosa di imprevisto, di irrazionale, di qualcosa che non deve esserci e che c'è, stranamente. Io credo che sia miracoloso che continui a esserci gente come Vergassone, che non ha paura di nulla e nessun ambiente lo condiziona. Andiamo alla trama. Quanto manca ancora? No, diciamo brevemente di che si tratta. Siamo in Tirolo e c'è... In Tirolo? Siamo a Bologna. Siamo nel Tirolo e un reggimento di soldati ha una fanciulla che tiene con sé come se fosse... Una capretta. Non una capretta. Cioè, ce l'hanno i reggimenti la capretta, una specie di mascotte. Si noti che è un reggimento di soldati e quindi l'elemento del comico è già dentro il soggetto della questione, poi sarà nel coro. Cioè, i soldati sono come tipi, sono un po' grezzi, possono dire battutacce, sono di uomini, diciamo, vigorosi e popolari. La fanciulla è la figlia del loro capitano, il collega, il suo intendente, Sergio, che è defunto, il quale capitano ha defunto, ha lasciato questa fanciulla. non si sa al momento chi sia la madre. Minorenne. Quindi, attenzione ad Arcore. Qui Arcore vanno a suonare la fanfara Arcore. Lei arriva nello stesso contesto un giovanotto tirolese, Taltonio, che è stato preso. Daltonico. Taltonio. Taltonio. Si chiama Tonio, non Taltonio, si chiama Tonio. Lui è stato preso prigioniero dai soldati. La fanciulla, va bene, interviene in sua difesa dicendo, liberatelo, e gli mi ha salvato l'aviglio. La fanciulla fa liberare il Tonio. I due limonano. Tonio ama la fanciulla e si iscrive all'esercito e cerca di entrare dentro l'esercito per seguire la fanciulla suddetta. Ma lei si è innamorata anche di tutto il reggimento? No, no, no. Lei è protetta da tutto quanto il reggimento e è innamorata di Tonio. E Tonio si arruola nell'esercito per stare vicino a Maria. Nel villaggio tirolese c'è anche una baronessa, una marchesa, una contessa, una nobildonna da un nome pressoché inconnunciabile. Si chiama Krakenthor. Sai che se lo fai a Scarabèo vinci un miliardo Krakenthor? La nobildonna si scoprirà essere nient'altro che la madre della fanciulla Maria. La mamma della mascotte. Perché il capo, il sergente o caporale sul PIS si chiama, il caporale del battaglione, riconosce nella nobildonna... Scusate, intanto vi siete d'accordo che stiamo mandando un video dell'opera? Che distrae abbastanza. Riconosce nella nobildonna la compagna del capitano defunto. Quindi la figlia è la figlia della nobildonna. Quindi si scopre chi è la figlia della nobildonna. Allora, mentre Tonio è entrato nell'esercito per seguire Maria, la nobildonna, scoprendo di essere la madre della fanciulla, decide di portarla al castello abbandonando il Tirolo dove si svolge la vicenda. Quindi la fanciulla segue la madre che la vuol far sposare a un giovine nobile. Fine primo atto e adesso ascolti i canti che ci vengono proposti se non esero dagli allievi dell'esercito. Allora, adesso sentiamo prima l'aria di Tonio, quella celeberrima a Mesa. Chiamiamo l'aria di Tonio. Che è il giorno di festa e canta il tenore Francisco Arisa e al pianoforte il nostro accompagnatore Costantino Petridis. Ci sono proprio dal vivo. esercitamente. Prego, prego, prego. Tonio! Come va con la ragazza? Eh? Se avete gelato dentro. Che i cari amici che allegro giorno le vostre insegne io seguirò sol per amore a voi ritorno e un grande eroe diventerò. Assicco lei un Dio sospiro ebbe pietà del mio martirio e questa spiega e desiata ognuno altre essenze che di mio cuore. è una filastrofa. Eccole! Tutte mie ex salve tutte mie ex e le ho lasciate io per quello che sono qua. Venite a sentire questa roba qua. Scusate. A mezz'amiche c'è un neppete che mi ha sceso vodrova. La fulghe in madre me la pete ne dorme ne dorme ne ranna ne rò a chi è che mi ha sceso vodro che mi ha sceso vodrova. a mezz'amiche che mi ha sceso vodrova a me fai a tègnier solide e se nous c'est-moi devolver trubler la raison e mocher pro a mezz'amiche A mes amici, a mes amici, a mes amici, a mes amici, Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 molto importante e anche tipica di voci giovani quando un tenore supera la metà della sua carriera artistica non canta più questi ruoli perché la voce non ha più questa freschezza e questa capacità garantisco che non era in playback veramente? lei mi giura? giuro giuro, l'ho anche sentito quando non gli vengono è orribile e invece adesso poi sentiamo un po' di Marie però scusate aver gasso la comigliera sembrata io sono rimasto scomodato per me è sì, come se fosse ex fatto per me è sì hai capito anche il contesto ti è arrivata l'area della metà siamo a Parigi nel 400 nel 400 per l'esattezza però la cosa strana è che intanto canta così senza microfoni vorrei sapere dove è il microfono questa è la prima cosa cerca il microfono con gli occhiali una cosa che impari e poi la cosa che però ho capito che è interessante è che se è tirolese perché canta in francese? questa è la domanda vabbè dunque perché Donizetti ha composto quest'opera a Parigi dove era andato è invitato quindi potrebbe essere anche Spezzino potrebbe essere anche Spezzino che però scrive in francese sul libretto di due signori francesi poi il libretto rifatto tradotto in italiano adattato viene poi cantato anche in italiano ma te come fai a sapere non c'è una vita privata tua perché non ti droghi come gli altri invece che continua la storia va bene sentiamo un'altra area perché il nostro Tonio una volta entrato nell'esercito come ha detto il signore Pocanzi cantando io voglio partire entrerò nell'esercito e così via gli annunciano che Marie deve lasciare il reggimento per seguire la madre che abbiamo visto e la nobile donna che abbiamo incontrato alcune frasi dal libretto per contestualizzarti suo padre me l'accorda è sposa mia dice Tonio va verso Silpice che è il sergente del reggimento il suo mentore un po' l'altro compagnone militare altro che sposa ritrovò una zia che la porta con sé coro i militari chi nostra figlia o te la numero 20 no 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 portarla via domandano e Tonio portarla via possibile mio bene o i buon non sarà vero Maria qui arriva e canta un'aria dice partir conviene conviene partire i miei compagni darmi e d'ora in poi lontano da voi fuggire ah per pietà celate a me quel pianto addio conviene partire vacilla la mia costanza dicono Sulpice Tonio è un caporale la mia speranza sembra anche con te lei riprende dicendo conviene partire addio voi che l'amor sin dai primi anni a me destaste in sé e me codivideste gioia e affanni il mio felice stato è in bene in oro mutato conviene partire ah per pietà celate il pianto conviene partire ecco Maria resta con me quindi è una romanza Maria rimane con la mamma no Maria parte con la mamma non è capito niente parte con la mamma e loro rimangono lì lei va a sposare qualcuno dopo che sarà stata diciamo allenata da fanciulla un po' ignorante no? figlia del reggimento la portano tipo al twig e la nobile donna vedremo nel secondo atto come cercherà di elevarla va bene per prepararla a un matrimonio di rango così che si faceva e adesso credo che ascoltiamo adesso ascoltiamo il soprano Nina Solodovricova che abbiamo sentito anche in un ruolo importante anche nel Don Carlo in scena in questo caso sempre col maestro Costantino Petridis al pianoforte e questa è un'area seria invece questa è una delle poche aree serie dell'opera esco dopo avremo non piangere più che altro non piangere ecco perché è un po' triste è un po' triste ok ecco è lo spirito ma questo è quello di prima cavoli cioè complimenti scusate basta vestirsi così ma lo presta mia moglie quel vestito lì perché ok parla anche anche io ti amo scusate grazie a tutti 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 E che pianeta siete voi altri? Da dove venite? Mica male, complimenti, pensavo si vedessero solo nel film. È bello perché nessuno si caga al pianista. Grazie, buongiorno, è bravissimo, farei un applauso anche al pianista. E in quest'area di Marì invece si riconosce il Donizetti, quello più tradizionale. Ma non è una via a Donizetti? Anche, talvolta anche una piazza, raramente. E' di Bergamo. Tirolese, francese e di Bergamo. Esattamente. Ma abitava a Parigi. Allora non confondiamo, adesso troppo. Abitava a Parigi quando compone l'opera. In che via? In via Donizetti. Perché è Rossini, l'aveva chiamato. Parigi è la città che conosci, perché abbiamo già lavorato con Bergassolo, su Madame Bovary e sulla signora delle Camelie. Quindi tu ricorderai quell'ambiente. E quell'ambiente è un po' prima, ma è l'ambiente della signora delle Camelie. E' quello dove ci sono sempre però... Qua non ci sono i zoccoloni, no? Non c'è quella a Parigi là. Questa è molto più una grande cosa di simpatia nel senso proprio filologico del termine. Questo gruppo di soldati che protegge questa specie di sorellina e di figlia insieme. Un po' come dici tu per certi versi anche a Mascotte. E che deve celebrare il suo rituale di allontanamento da questa famiglia così maschile, che è così protettiva, che si svolge attraverso un cambio di classe, una evoluzione di tipo sociale. Scoprirsi figlia di una nobile donna. Ma alla fine la fanciulla nel secondo atto... Muore. No, non muore. Rivendicherà la sua... Di solito muoiono tutti nelle opere a memoria. La sua appartenenza affettiva a un mondo più popolare. E' quello che dà anche il grande successo di queste opere qua. Il fatto di rinsaldare nel pubblico, che ne decreta il successo, mille repliche. E' un grande successo di questa opera perché c'è scatto un'identificazione. Alla fine la fanciulla sceglie Tonio che è il... Quindi va con Tonio. Va con Tonio alla fine con il soldato. Perché Tonio capiterà di nuovo nel castello dove la nobile donna sta dando alla fanciulla delle lezioni, diremmo, di Galateo. Scritto apposta però. Per certe grazie. E c'è quella nella parte che ascoltiamo adesso, il tentativo della... Ma la sentiamo tutta. No, altre due aree. De la nobile donna di insegnare alla fanciulla... Ma perché ho messo il discorario e ho messo mezz'ora. Delle arie, perché le fanciulle devono imparare a cantare le arie. Già, quindi c'è un'ironia proprio anche sulla musica stessa, no? Viene messa in scena il fatto che la fanciulla debba imparare delle arie, per darci un tono, delle arie musicali. E invece lei canta solo in i militari. Gli piace solo cantare. Gli piacciono più queste cose. Pianista la sa osteria numero 20? No, no, non devi cantare quello. Quando uno suona dorme. C'è altro da aggiungere. No, insomma, esattamente. Qui siamo già arrivati nel secondo atto. C'è questo cambio. Comunque, sempre nei dialoghi intorno all'opera. Vi faccio, penso, sorridere. Non so far ridere come colore che sta alla mia sinistra. La faccio sorridere. Dieci giorni fa abbiamo fatto un convegno con l'Associazione Nazionale Forense, locale. Partendo dalla Fildur-Gimane, sul tema sull'adozione, sui genitori, sull'affido. Che sono tentimi, molto interessanti. E lì poi è passato a un dibattito molto interessante. E ho iniziato a pensare quanti padri illegittimi, padri cattivi, padri che tengono reclusi le figlie, costellano le drammaturgie delle nostre opere. Da Rigoletto, che faremo tra pochi mesi, dove poi è un padre che tiene segregata la figlia Gilda. Dove invece lì si parla solo di amore, invece anche questi aspetti sociologici sono assolutamente interessanti. Volevo dare una risposta a Bergassola, che sennò non mi darme più stanotte. Come mai abbiamo fatto questo video? Quale video non capisco? Perché sarà uno sponsor, come minimo. Lei è molto acuto. La domanda che vuole fare è, la soprano è sposata? La soprano è molto corteggiata, come tutte le soprane. Purtroppo è così. No, il video che non dà fastidio, perché tanto è in loop, è il nostro sponsor, Era Energia. Era il nostro sponsor. Era il nostro sponsor. Quindi possiamo spegnere. Speriamo che ci sia anche l'anno prossimo, intanto c'è. E quindi adesso sentiamo l'aria del secondo atto di Marie, sempre Nina Solodomicova, che torna per la gioia di tutti noi e canta questo fastidio di dover affrontare arie che non sono quelle della sua vita assolutamente militare, in cui è cresciuta nella prima parte di questa sua vita. Quindi queste sono le arie aristocratiche. Queste sono quelle aristocratiche. L'ha imparato. E qui c'è tutto il tema dell'ilarità, perché chiaramente è affrontata in maniera leggera, leggera e finisce con, viva la Francia, viva la Francia, saluti alla Francia e si ricomincia. Dico la traduzione in italiano. La mia battuta era Giuliano Ferrara, lascia la Rai, liberando così tre posti. Però non è molto vecchio. Maria dice, canta canzoni militari, il suo destino è la vita del regione. Deciso è dunque, cangerà il mio fatto, né a proteggermi alcun è qui spronato. Le ricchezze e il grado fastoso non mi possono il cuore cangerare. C'è l'ardeggio il mio duolo affannoso e quest'alma ad ognora ingannare. Tra le gemme e i tessuti non trova pace alcuna il mio lungo penare. E serbella, a che dunque mi giova, se ogni pace viene tolta al mio cuore. Per sì fatal contratto tutto letizia intorno. La mia sventura io compirò in tal giorno. Sente suonare una fanfara militare. Ma cosa sento mai? C'è questa marcia guerriera. Ah, son pur dessi, oh trasporto, dolce e brezza, son gli amici del mio cuore. Bel piacere di giovinezza, ritornate al men con loro. Di gioia abbramata, di tenero affetto, già sento nel petto l'arcano potere. E l'ira calmata dagli astri nemici, a giorni felici, ritorna il pensiero. E viva la Francia, la pace nel cuore. E arriva il cuore, dice, ah è lei, qual piacere, qual destino. L'antica tua famiglia ti vede al film. Viva la Francia, la pace nel cuore. E tutti questi soldati che giocano alla bottiglia con l'unica ragazza della serata. Ascoltiamo l'aria. Ascoltiamo l'aria. Questa è la donna invisibile che canterà per noi, questo pezzo. Ah, ancora? Ha vinto lei con lui, ha vinto lei con lui. Ascoltiamo l'aria. 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 Grazie per la visione! 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 rende ebrio, ubriaca, quest'angelo che mi ha affascinato dovrei smettere di vivere se dovessi smettere di amare. Sì perché forse lei alla fine sceglie questa roba qua, perché poi lei sarebbe anche figlia unica sì è figlia unica, certamente figlia unici lo dico, c'è qualcuno qua che è figlia unico che è riuscito a sopravvivere figli unici, cioè io sono stato figlio unico ho la canota di lana ti senti un po' come un marino? sono un po' così, il 25 aprile ho la liberazione e la canota di lana, mi metto quella di cotoni lo faccio che ci interessa e però con una famiglia, diciamo dove c'era l'ignoranza, dove non si sentiva le opere però mia mamma andava a servizio in questi avvocati ingegneri, architetti, una cultura diversa da quella di mia mamma, mia mamma assorbiva di vocaboli di cui non sapeva il significato e cercava di prendere un po' di erudizione e li metteva nel suo slang di parlare, dando a così una famosa slang della casalinga, ovvero gli strafalcioni, mia mamma ha delle stupite generalmente grosse che per ripeterlo è scritto mia mamma la SIAE al DOR, l'ho fatto fare, ne dico due perché poi per farvi capire anche l'ignoranza perché questa che nasce dall'ignoranza si ritrova dai ricchi, è un po' come la figlia donna di servizio, mia mamma un giorno a tavola io e mio padre ci stavamo bisticciando, una cosa normale mi ha fatto un po' di cagnere è arrivata mia mamma, ha dato un pugno sul tavolo ha detto basta, quando fate così mi fate venire un orgasmo ha detto mia mamma al volo e mio papà mi ha guardato e mi ha detto saluta finché ci riconosce, ecco questa è la diciamo è la tragedia vergastudiana molto verdiana però insomma ad essere figli unici ha i suoi vantaggi però le scappa dalla madre ritrovata per andare con questi 50 legionari questo livello diciamo acculturale se vogliamo cioè c'è un negarsi all'apprendimento delle romanzi quindi diciamo che è una che dice no alla cultura io la voto naturalmente tutto questo è svolto con grande raffinatezza di composizione ecco è tutto bello peccato a questo punto non canta più lei ma torna a lui peccato una cosa molto bella e poetica che è successo prima per la piccola magia sempre che capita è che queste ragazze con la corona dall'oro in testa passando qui davanti non li avete visti si sono messe a salutare quando c'è un sex symbol si fermano entra questo esterno dentro la vita possiamo sentire quest'ultima aria possiamo svegliare il ragazzo che sarà dietro l'ultima aria speriamo che il penore sia sopravvissuto alla lunga attesa ancora Francesco Ariza e sempre Costantino Petridis il pianoforte pur mera proche a Marie per ritornare vicino a Marie che ci porta un po' a concludere poi ci saremo facciamo un po' di fuochi d'artificio in finale va bene? al chiuso al chiuso ecco fatto la signora gli è scappata ecco è sempre lei che cambia completamente è impressionante sei fantastica grazie a tutti 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 comunque rimango di là che dovreste fare questa roba di teatri secondo me dovreste farla perché funzionerebbe ci proveremo prima o poi ci proveremo volevo dire veramente un grazie ai nostri ragazzi ma possiamo rifare una plaga Oltre al problema di cantare, hanno il problema della lingua, perché poi noi siamo molto severi e i titoli francesi li facciamo dirigere, qui abbiamo un direttore canadesi, quelli tedeschi un tedesco, quelli inglesi un inglese, così beccano sempre sulla pronuncia e creano grandi pianti, sconforti, tragedie. Infatti li rendete vulnerabili, però questa è una grande verità, che nella esatta dizione della parola, della fonetica, c'è anche il senso tecnico-armonico della frase, voi che siete artisti della parola conoscete bene queste cose. Però mi dispiace solo che non è proprio un'opera di quelle più normali, dove c'è la morte, alla fine non c'è la morte. Non c'è il senso della morte, io con la morte invece ho questo rapporto meraviglioso, nel senso che come comico abbiamo cercato di fare in televisione delle battute sulla morte e non siamo mai riusciti a farle perché non vogliono. Vuoi dire queste, chi ci ha portato le battute su, vuole arrivare lì. Se avessi fatto la serata che dovevo fare di cabaret da un'altra parte l'avrei detto, però siccome ogni volta che muore qualcuno, la cosa bella, un esercizio anche quello, riuscire a dire una battuta, tipo una volta era morto un signore di 96 anni, curava tutte le voci dello zingarelli, vocabolario della lingua italiana, e io ho detto, è morto un signore di 96 anni, le ultime parole sono state zuppa e zuzzorellone, ora è una cazzata, però è molto da... È bello, è giusto. E quindi da quella volta lì era un esercizio, una volta che muore qualcuno... Hai delle altre perle, ci sta dentro l'opera, ci sta. Io infatti pensavo di fare una cosa sulle opere, e poi erano queste che mi sono piaciute, a Rona, trafugata la salma di Mike Buongiorno, quella di Baudo invece da marzo sarà su Rai 1, questa mi piace su Morti, è morto l'inventore del Ciciobello, la cameretta ardente la trovate nei migliori negozi, morto fu Pappedretti, però il problema è che praticamente lui è stato stabilito in una bellissima bara, che piegandola diventa talo da campeggio, talo da ping pong, questa cosa è meravigliosa. Vi ringrazio molto, e poi ne dico un'altra bella, si è suicidato il celebre dermatologo Frederick Brand, re del Bottolino, alla notizia le sue pazienti non hanno fatto una piega, e poi, lo dico per chi fa il fai da te, muore l'inventore della brugola, i familiari si stringono intorno alla vedova, questa è una bella scena da finale, ha riso anche il sovrintendente, sono contento, e poi è morto Joe Cocker, visto che parliamo di musica all'età di 70 anni, che però trattandosi di un Cocker naturalmente va moltiplicato per 7, e poi era morto un inventore della Bialetti, ma te ne hai fatto un mio amico, quello dell'inventore della Mocca, una data per telefono, ho detto finita, ho detto, è morto l'inventore della Mocca, le ultime parole sono state... Poi c'erano due al volo che mi piacciono, che era morto un omonimo di Silvio Berlusconi, è scivolato su una lastra di ghiaccio e morto, la dimostrazione è che il voodoo non è ancora una scienza esatta, questa era la prima, e l'altra sempre su questa, perché mi piace il raddoppio, è morto un omonimo di Silvio Berlusconi, fuochino, ecco io ho queste cose sulla morte, nel senso che è una definizione di battuta. Vorrei dire che Vergassola, come per concludere, diciamo... Canterò una romanzo io. No, l'esercizio ministeriale per il quale è stato invitato, c'è il commissario... Baricco in sala. L'ultima cosa che deve fare è che deve dare un suo giudizio finale su quest'opera che ha ascoltato, per dimostrare che l'ha sentita, che se ne è fatta una ragione. Che idea ti sei fatta di questa figlia del reggimento? La figlia del reggimento dell'Osteria numero 20, alla fine sceglie tra una vita sicura 500 soldati. Ecco io non voglio saperli in seguito, quindi diciamo voglio rimanere così, quella voglia di sentire. E poi ho scoperto finalmente la differenza tra il soprano e l'altra, come si chiamano, lui e lei. Il tenore. Il tenore e il soprano. Devo dire la verità, a me il soprano mi piace di più, non so se... E' un'altra ragione. Mi è piaciuta di più. Però se il tenore fosse venuto con gli orecchini di lei, secondo me andavano a pari. Però voglio dire, la letizia di quest'opera leggera, comica, di cui abbiamo capito anche con queste poche cose, la potenza rispetto al pubblico... Si divertivano nel Quattrocento. Ma poi guarda, ti dà l'idea di una Parigi che impazzisce per queste cose, è bello contestualizzare così. Però questa cosa qua fa anche pensare, non mi ricordo più perché tu mi interrompi continuamente... Ah bene, si chiama vecchiaia, si chiama vecchiaia. Sì, venti a te ragazzi. Adesso in questo momento il pianista è dentro un bar che sta facendo un altro pezzo e poi torna qua. Questa è la bellezza del pianista, questa me la vedo. Vabbè, non me lo ricordo più. Se dovete domande da fare e volete cantare qualcosa, anche voi io sento tutto. Ma no, dicevo che la cosa drammatica invece, l'elemento drammatico non è tanto nella composizione di Donizetti, che ha scritto più cose, diciamo, gli etiche, ma nella vita di Donizetti. Qua ha avuto moltissimi lutti, ogni volta che faceva un grande successo in teatro... Moriva qualcuno, infatti alla fine non ci andava più nessuno dei parenti. Gli dicevano non scrivere più niente in casa. È molto giovane, è morto a 51 anni mi sembra. E poi c'è un mistero perché dopo defunto viene fatta un'autopsia. Abbiamo anche delle diapositive, se volete vederle. Sparisce la testa. Perché Donizetti è uno che ha perso la testa per la musica. Che fu ritrovata dopo, perché si era portata via uno dei medici che avevano fatto... Si ha parlato del lavoro a casa. E un nipote, va bene... Ha ritrovato la testa? Trovano la testa da un nipote. Poi parliamo male della sanità ora. Che è stata ricomposta la salma. Pensa nel 1951. Cioè per darti idea, tutto quanto è stato molto lungo anche. Quindi c'è questo mistero... Il mistero unico, mistero della serata è il numero di telefono della cantante. Questo ce l'hanno gli agenti e deve lasciare perdere. Bene. Va bene, allora intanto veramente grazie per questa... Io faccio un controsofitto in cartongesso. Appena mi chiamate. Beh ma è in cartongesso. Ah ok. Certo, è tutto finto qua. Perché non c'è tutto... Ma qua dentro? Faccia spettacolo. Sai quante macchine ci starebbero qua dentro parcheggiate? Almeno tre piani. Ci fate quattro piani qua dentro. Poi mettete la fila di fusione e mettete quello che vi pare così. Il tassi deve concludere il suo video. Ecco, allora. Dal nove novembre al quindici facciamo sei repliche con due cast. E una delle due Marie sarà un'altra nostra ragazza della scuola dell'opera. Perché la titolare si è ammalata e noi lanciamo giovane carriere. Mi scusi ma... E mi fa molto piacere dire questo ai nostri ragazzi perché la vita del cantante sembra molto bella, invece è molto faticosa, c'è una concorrenza spietata, è difficilissimo. Guardate, quando noi decidiamo, faccio una violetta di traviata. Quindi voi avete tante di queste Marie. Abbiamo centinaia di proposte perché, mi dico sempre ai nostri, se io devo scegliere te è perché tu sei più brava, più affascinante, più interessante. E non andiamo oltre. Non solo più bella, ma c'è qualcosa, qualcosa che estrella. Una quarta. Anche gli uomini, anche gli uomini. Una quarta, ok. Anche Alfredo, non solo violetta. Baciami Alfredo. Prometto, quello lì. Allora, grazie, spero che sia... Ah, non ho capito cosa fai. Vi rigo il traffico. Ma lei è il capo della baracca, lei. Non ho mica capito, scusate. Allora, grazie a tutti e ci vediamo alle repliche. Grazie. E viva il pianista. Sopra di te. Grazie a tutti. Perdonate l'irruzione. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti.